Ciao a tutti gente bentornati da Lodos, come sempre iscrivetevi al canale, come sempre condividete un mi piace o non mi piace anche se non appaiono più, un commento se avete domande, se avete qualcosa da chiedermi a riguardo, un vostro punto di vista a riguardo. Detto questo partiamo con il video in questione, allora questa domenica, sabato o comunque fin di settimana di partite ci porta il Milan in testa, grande pubblicità, grandi elogi, ricordiamoci che all'Inter gli manca una partita. Nessuna partita è facile, perché uno mette il pullman e non fa i gol e danno la sblocchi e sei 0-0, ti fanno un gol di scappuzzo, mettono il pullman e te non la sblocchi più e se ti va bene la pareggi, perciò non sono mai facili, però sulla carta vincere col Bologna non dovrebbe essere una partita così ostica, perciò tecnicamente sei cos'è, ha un punto sopra del Milan? Mi sembra che adesso sono due punti sopra? Perciò un punto sopra del Milan? In ogni caso, bisogna essere tecnicamente, teoricamente, ancora prima in classifica, anche dopo questa giornata. La Juve ha partita con l'Atalanta, ha pareggiato, un attimino va bene che l'Atalanta abbia bloccato questa serie di vittoria con la Juve, più o meno l'ha vinto e l'Atalanta ha pareggiato e noi ovviamente abbiamo pareggiato con il Napoli, perciò l'unico che ha guadagnato lì davanti è il Milan. Detto questo, io inizio a leggere un pochettino in giro, anche a vedere video di gente disperata, triste, proprio musona, rammaricchiata. Anche esempio, il titolo del video di Mastrangelo, che dice, ci siamo bruciati il tesoretto, adesso calma, attenzione, è vero, nel senso che d'ora in poi bisogna essere attenti, tutto è azzerato, bisogna essere attenti, ma tutto è azzerato? Non è proprio vero, perché sì, ti sei bruciato il tesoretto e eri a 7 punti con una partita in meno, ho un filo, 7 punti con una partita in meno e ti sei trovato adesso a 2 punti sotto con una partita in meno, molto diversa la cosa, no? una ripesta, due le pareggiate, no? E 7 punti senza la partita in meno ancora, vabbè, in ogni caso avete capito. Ricordiamoci di una cosa, il tesoretto, tanto citato ormai da molti online, da molti youtubers, da molti gente sui social, esisteva, avevi un tesoretto, ma come dicevo io nella chat interna nostra, sì, ti sei nel tesoretto, ma il tesoretto ti serviva per adesso, perché c'erano questo mese di febbraio, fine gennaio-febbraio, che era un bordello dalla madonna, perché avevi 3 delle 4 squadre, una sei te, in testa del campionato, praticamente ti sei beccato in fila, Atalanta, Milan e Napoli. Quindi, diciamo questo, fino a due mesi fa, ti eri dietro a tutte queste, eri a 7 punti dalla prima, e loro che erano un punto tra di loro, o comunque pari punti, un punto tra di loro, e ti eri a 7 punti. In un mese e mezzo, due mesi, ti hai fatto una fila di vittorie, loro dei passi falsi, e da quel punto lì si è arrivato te a 7 punti da loro, dalla prima. L'Atalanta ha perso un pochettino più passo rispetto alle altre, però questo fa capire che in un mese e mezzo ti sei avuto quel tesoretto perché a gennaio-febbraio avevi queste partite, questi scontri diretti in cui ti devono avere più punti possibili. Perché? Perché su queste, va bene che a te inizio il campionato hai perso delle punte con i piccoli, giocavi benissimo, ma meritari, ma davvero tra pullman e sfiga, anche stupidità tua, errori di Andanovic, e loro in attacco, e quando hai 20 occasioni e non fai gol è anche colpa tua, però hai perso punti con le piccole, hai perso qualche punto con le grandi, e le altre invece hanno vinto, e sono andati a più 7 da te. Se erano lì, vabbè, è meglio tuo che hai perso dei punti, ma se loro erano lì, vuol dire che qualcosa di buono l'hanno fatto, le loro vittorie l'hanno fatte, i loro goli l'hanno fatti, hanno fatto le loro goliade quando sono servite. Ciò vuol dire che con queste, come si diceva, puoi perdere, puoi pareggiare. Ecco perché avevi bisogno del tesoretto. Se vinciamo col Bologna e sei a un punto sopra al Milan, che è la seconda, che adesso è la prima, poi sarà la seconda, cazzo ragazzi, è ottimo, va benissimo. Ovvio che se diciamo in un mondo ideale l'Inter vinceva con l'Atalanta, vinceva con il Milan, vinceva con il Napoli, cazzo eri a 15 punti sopra la seconda. Cazzo, ideale, benissimo, è loro che pareggiano tra di loro, oppure perdono tutte. Cazzo, perfetto, ma non è così. Te hai bisogno del tesoretto per essere davanti, a fine di questo mese, essere davanti a queste tre. Perché? Perché ci giochi adesso e non ci giochi più. Poi tra di loro devono ancora giocare, mi sembra, forse una lanza giocata, un diretto, non ne so. Va bene. Devono ancora giocare con le big, devono ancora fare i loro passi falsi del ritorno di campionato. E noi adesso qualcuno ne abbiamo fatto, però ricordiamoci che se noi ci diceva che la fine dell'andata per noi era facile, perché ricordate? Ah, giocate con le squadre pippe, giocate con le ultime in classifica. Questo ritorno, questo partite, le abbiamo nel ritorno. Perciò tecnicamente va bene che adesso, come adesso, si nota che l'Inter è sulle gambe, mentalmente stanca perché giochi una partita top dopo l'altra. Se è mentalmente stanco e fisicamente stanco, però poi arriverai a quelle partite facili sulla carta. Arriverai a quei punti in cui alcuni di loro saranno già in serie B, perché giocheranno così a cazzo e te li affronterai quando invece loro avranno scontri diretti, come hanno avuto la fine del giorno d'andata. Queste cose qua, ragazzi, torneranno. A noi ci si va questo tesoretto per questo inizio febbraio. Ci si va per adesso. E essere davanti finito questo periodo, per me è ottimo, è molto positivo. Ci sta che pareggi con Napoli in casa loro, ci sta che perdi con Milan. Poi, vabbè, guardi la partita. Ci avevamo dominati e quasi un pareggio fino al settantesimo ci stava stretto. Il pareggio ci stava stretto e hai perso addirittura. Perciò hai il rammarico. Però ci sta che in Milan, se giochi, se non sei attento, concentrato, lì con la testa e fai errori, come cazzo è Dampres che tira in faccia al portiere, ci sta che poi Milan ti batta. Ci sta. Erano secondi in classifica per un motivo. Non è che erano lì a casaccio. Vuol dire che comunque, se gli lasci il fianco, ti puniscono. E ci sta. Ma questa è andata. Non c'è più. E se è ancora davanti, battendo il Bologna, se è ancora davanti, gli altri devono ancora rincorrerti. Che sia un punto che siano sette, se è ancora davanti. Guardiamo il lato positivo, ragazzi. Non guardiamo sempre negativo. Adesso c'è il Liverpool. Il Liverpool con il campionato non c'entra un cazzo. Con il Liverpool andrai fuori. Tanto vai fuori dalla Coppa. Perciò avrai un impegno in fase settimanale in meno. Ne avrai uno in meno. Perciò anche lì avrai più tempo per preparare la partita, avrai più tempo mentale per riposarti. E questa cosa che non l'avrai più. Avremo ancora la Coppa Italia. Vabbè. Però, tanto con il Liverpool usciamo. Non siamo in un periodo di forma ottimale. Né fisicamente né mentalmente. Ci manca Varella che è un perno. Ci manca Bastoni. Dicono che torni, ma... Ok, torna? Va bene, ma... Dopo un infortunio sarà in piena forma? Non ho di sicuro. Di là. Anzi. Più di là. L'Inter sopprisce dalla mancanza di due fenomeni. Due grandissimi dall'anno scorso. Come Hakimi e Lukaku. Con il bel gioco. Con il gioco corale. Che adesso ci manca un pochettino, ma... Diciamo che non hai più i fenomeni. Perché Lukaku comunque da noi l'anno scorso era un fenomeno. Faceva un gol a partita, come lo si vuole definire. Non hai l'oro. Però, rimpiatti con il bel gioco. Giochi con Liverpool. Che hanno il bel gioco come abbiamo noi. E in più hanno i fenomeni. Hanno un paio di persone che possono vincere il pallone d'oro. Fino a un mese fa, un mese e mezzo fa, avevano tre giocatori. Tre giocatori. Nella top five dei capocannonieri in Inghilterra. Cioè tre ne avevano. Questi fanno gol. Questi nel campo girano la palla. Hanno un gioco spettacolo. Hanno dei fenomeni. E noi invece abbiamo solamente il bel gioco. Solamente, tra virgolette. Poi magari in calcio non si sa mai. Metti che cade la circostanza. Cade una meteora sul loro pullman. E vinci. Magari una la vinci. Uno a zero. E di là adesso non c'è più il gol fuori casa. Metti che loro ti fanno gol. Tagli ne fai uno di scapuzzo. E passi il turno. Metti. Ci può stare sta cosa. Nello scontro diretto ci può stare di più. Nei due scontri è più difficile che accada. Sicuramente chi è più forte passa. Però non si sa mai. Però sulla carta loro sono nettamente più forti di noi. Perciò non c'è niente da fare. Passeranno loro il turno. Guardi sicuramente avrai un impegno in meno. Che alla lunga, alla fine del campionato, ti dà più fiato. Ti dà più gamba. Ti dà più concentrazione. Più preparazione alle partite. Perciò non vediamola ragazzi. Super negativa. Ok. Ok. Abbiamo perso con Milan e pagiato con Napoli. Ma a noi ci serviva questa cosa. Noi quel tesoretto ci serviva per arrivare davanti anche di un punto a queste tre oggi. E oggi, se si considera comunque la parte in meno, ripeto, siamo un punto avanti dalla seconda. Seconda che non è infallibile perché il Milan, tanto lo diciamo, sono davanti, va bene. Ma ultimamente cosa hanno fatto? Con lo Spezia hanno giocato dieci minuti. Poi togli che dovevano vincere perché comunque l'abitro gli ha tolto un gol regolarissimo. Perciò dovevano vincere. Va bene. Però hanno giocato veramente dieci minuti. Con l'Inter hanno giocato dieci minuti perché fino al settantesimo hanno preso le sberle. Hanno fatto l'unico tiro in porta da 35 metri di Tonali. Bello, eh? Ma l'unico tiro in porta che hanno fatto. Poi hanno avuto dieci minuti, due gol e poi si sono spenti di nuovo. I sei minuti, con noi, con lo Spezia. Adesso hanno comunque perso le punte un'altra volta. Perciò, ripeto ragazzi, non è che il Milan, primo in teoria e non sbaglierà più in futuro. Perderanno ancora dei punti. Di me ci avrà votato a non perderli. Il Napoli, per me il Napoli era la squadra, e considero ancora la squadra più forte tra le rivali dell'Inter, tra quelle che possono vincere il campionato se non lo vince l'Inter. Io penso ancora che l'Atlanta, ormai sedista che non trasfiga, torte arbitrali, forma Muriel che sembra ubriaco, non sembra più neanche lui. E altro sono un pochettino troppo distanti. Il Milan, per me, dimostra ancora che non gioca a 90 minuti, poi saranno gli infortuni, sarà quel che vuoi, ma non gioca tutti i 90 minuti al 100%. Giroud ha fatto semi ridere fino adesso, si è sbagliato in queste partite, però dubbio che arriverà in questo stato di grazia fino alla fine. Il Napoli, invece, con tutto l'organico pieno, ha un buon allenatore, perché Spalletti è ignorante e forte, e ha davanti uno fortissimo, perché Osimene, e visto che con l'Inter, ci ha distrutto. Anche lì si vede il stato di fumo dell'Inter, gambe e testa, perché Osimene non è la prima volta che lo incontri, ma è la prima volta che veramente ti devasta. Perciò vuol dire che i nostri difensori, infatti, De Vrij, partitaccia, Skriniar, partite sotto le righe, ha fatto una buona partita di Marco di là, però era di là. Una buona partita sua è diversa da una buona partita di Skriniar o di De Vrij, molto diversa. Però, ripeto, il Napoli ha un ottimo organico, ottimi giocatori, ottimo allenatore, è quella che mi spaventa di più. Con questa partita, che gli hai fatto un pareggio, hai bloccato, per me, la squadra più pericolosa tra Milano e Napoli, perché avere anche il Napoli a un punto, sarebbe stata molto, molto, anzi, a due punti, perché... O quello che sia, a pari punti, che si vince, perché dopo, se non avessi guadagnato un punto, perciò, per dirgli anche quel più più uno, è importante, se noi eravamo, in teoria, tutti e tre, alla stessa, allo stesso livello, sembra, se non sbaglio, non ho la classifica sotto gli occhi, però, l'hai tenuto in distanza per me è la squadra più pericolosa. Perciò, ragazzi, con calma, sì, siamo in un ottimo stato di forma, ma adesso le partite cattive sono finite. Hai ancora la Juventus, è vero, hai ancora la Juve, però non è adesso, non è Atalanta, Milan, Napoli, Juve. La Juve, cos'è, tra quattro partite, cinque partite, hai tempo, hai tempo di tornare mentalmente forte, rilassarti, tornare sulle gambe, preparare le partite e giocare ancora un attimino con più testa e più calma, o le altre, quello che sarà, sarà. Detto questo, ragazzi, come sempre, commento all'inizio, iscrivetevi, commento, mi piace, condividete, ciao, alla prossima.